Ciao Giorgio, oggi 5 marzo, pace bene a te e a chi ci ascolta, gli amici e nemici, a quelli che ci considerano amici e anche nemici, che si può fare? Purtroppo qui è così, quando si va in questi mezzi bisogna andare con un sacco anche per darle, oltre anche a prenderle, è così. Allora volevo dare alcune notiziole ai nostri amici, in Crimea e in Ucraina la situazione è sempre più ingarbugliata, l'unica cosa certa che c'è in questa situazione è che Putin non lo recede da dove è arrivato, anzi se gli occidentali fanno un'altra mossa falsa sono bastonate, in realtà l'Occidente comunque in Ucraina anche qui ha fatto una pessima figura, ancora peggiore, di quella che hanno fatto in Siria, cioè parliamo degli atlantisti e loro le cicode e gli vanno dietro. Vorrei fare subito un commento. Sì, un attimo perché do un'altra attenzione così tanto per sorridere un po', io oggi ho cominciato le fondazioni per il Tempio da edificare a Priapo, ho invitato per posare la prima pietra, attenzione, ma solo per posare la prima pietra ho invitato a farlo l'Arcivesco di Napoli, Crescenzio Sepe, il quale pare, parrebbe anziché, forse, potrebbe fare questo gesto, forse, però l'ultima pietra la devi inaugurare tu, l'ultima pietra è tua, fare di quel Tempio la sede del tesoro di San Gennaro. Ecco, io per questo scopo lo faccio io, infatti io l'ho detto a Cardinale, Cardinale pare che avrebbe gradito questa mia proposta e lui dice che verrebbe qui a inaugurare la prima pietra, però l'ho detto, vorrei vedere anche l'ultima, io ho detto eccellenza, lei vedrà l'ultima, ma quella la inaugurerà e la benedirà il grande accademico, maestro dell'Accademia della Libertà, Giorgio Romano Vitali. Lui mi ha detto, vabbè, allora, ha consentito comunque. Io ti direi che qualora venisse tale Cardinale, gli faremmo sbattere le due pietre tra i suoi coglioni, un rito magico di sbattere le due pietre tra i suoi coglioni, un rito magico. Però l'ho detto anche che dobbiamo fare buon uso del tesoro di San Gennaro, cioè risanare le terre di fuoco e anche molte zone della Valpadania che è stato inquinato con l'industrializzazione selvaggia, che tu sai che questo fatto lo denunciò, non a caso, anche un certo Giorgio Bocca, tanto per intenderci. Giorgio Bocca le cose diceva bene, non è che poi era tutto... Sì, no, no, sì, lo sconteravamo con una marea deporcante. Sì, sì, però l'aveva fuori... Sì, è una tecnica, no? Volevo dire, questo tempo, per fando veramente ecumenico, per fare il nuovo Pantheon del ventunesimo secolo, bisogna dedicarlo non solo al grandio Priapo, ma ai santi prepuzzi, quindi, vedete, il Pantheon, ma glielo di a loro, perché sono stati semplici, dedicati ai prepuzzi del buon Gesù? Eh beh, certo, noi faremo... Ma noi ne faremo quelli veri, c'è uno che sia quello giusto e non quello finto, capito? Sì, va beh, bisogna chiederlo agli archeologi israeliani. Ah, sì, sì, loro lo sanno. Allora, sono esperti. Loro lo mangiano. A proposito della scuola archeologica... Gli archeologi israeliani li mangiano i prepulsi di Cristo, lo sai? No, ma ti ho detto, no, qui bisogna spezzare una lancia a favore di archeologi israeliani, che hanno fatto scoperte grandiose. Bisogna dirlo... No, perché tra l'altro, un'altra cosa, a proposito dell'Ucraina, oggi, nella pagina delle lette, quella della sera, che è le cura l'ex ambasciatore Sergio Romano, c'è una bella lettera di un signore che si chiama Antonio Spadoa Schioppa, molto bella, riguarda l'Europa che non è più sovrana, e c'è altrettanto... E' figlia al padre. No, no, lui l'ammette, e poi c'è altrettanto... E lo ammette, eh beh... L'ammette, no, ma altrettanto l'ammetto, rincarando in più la dose, devo dire, anche che ho fatto molto bene, il Magnifico, in questo caso bisogna dirlo, ma è stato Magnifico, Sergio Romano, quindi chi va sul sito quello della sera e si legge le lettere che arrivano, oppure che compra il giornale quello della sera, troverà questa lettera... Mi fa piacere. Il fatto che l'abbia pubblicata quello della sera, o l'ora quello della sera, perché, ripeto, la stampa servita, come lo è quello della sera, Repubblica, la stampa, la Nazione, il mattino, il messaggero, anche il giornale, anche Libero, perché non sempre fanno le cose come devono fare, perché ci vedo tutti dentro, tutti quelli noti, però quando fanno veramente informazione e dicono le cose come stanno, abbiamo il dovere di dirlo, perché, Giorgio, qui c'è un equivoco, qui qualcuno pensa, che noi siamo faziosi, che noi di qua e di là, no, noi diciamo le cose come le vediamo, e non solo non le vediamo, può essere qualcuno... Ma come stanno? No, ma come stanno? Come stanno? No, diciamo come stanno, è che è più corretto, hai ragione, ha fatto bene a correttimi in questo caso, però se qualcuno volesse dimostrarci che abbiamo torto, bene, siamo qui a posto, lo faccio, ma ci dimostri che le cose non sono come stanno, perché è qua che vi voglio, cari miei, e finora io non ho visto nessuno che ci ha smentito, di conseguenza abbiamo il dovere di andare avanti, prego, prego, prego. Adesso esiste una figura sociologica che si chiama Band Wagonning, in italiano si dice salire in gran fretta sul carro del vincitore. Allora, questi personaggi, quelli che pullano nelle redazioni della Rai, di Mediaset e di tutti i quotidiani che tu hai detto, sono persone che hanno le orecchie vibratili, con alcuni che invece hanno di vibratili i peli del culo, ma insomma alcuni, la maggioranza ha le orecchie che vibrano e ogni tanto gli vibra pure il naso, i peli del naso. Allora, questi qui incominciano a spostare, capito, la loro direzione. Siccome le cose per i loro padroni non vanno più bene, questo costoro devono cambiare di bandiera. Disgraziatamente noi non abbiamo il potere per chiuderla con questo sistema tipicamente italiano, interrompendo alla grande una consuetudine che risale in Italia al 1500 e si prolunga in continuazione. Intitolato Francia o Lamagna basta che se magna. No, Francia o Spagna basta che se magna. Così si diceva. No, Francia o Lamagna. No, Spagna o Lamagna. Lamagna o Germania. Lamagna vuol dire Germania in questo caso, ho capito. All'epoca c'era la guerra tra la Spagna e la Francia che ha insanguinato non poco l'Italia, meno quella fulgida parentesi, ma molto parentesi, che è stata la disfida di Berletta. Ma è l'unica cosa. Chi ha visto peraltro degli italiani asserviti agli spagnoli vincerla a contro i francesi altezzosi che noi conosciamo perfettamente. Non è cambiato. In effetti Giorgio Susonato, i francesi da noi li hanno sempre prese. Li hanno sempre prese nello sport. Li hanno sempre prese ma sono sempre con la pulsa al naso. Esatto. Nonostante, anzi, addirittura ci devono, hanno in debito la vittoria della prima guerra mondiale che fu fatta grazie a noi e anche grazie a nostra spedizione a Bligny, di cui di questo fatto l'autore storico che ho fatto vedere in rete pochi giorni fa, Piero Baroni, ha scritto un bel libro sul grande contributo dato dai nostri combattenti del prima guerra mondiale in Francia e soprattutto della battaglia di Bligny. Tradito sostanzialmente dai francesi stessi che pretesero attraverso il loro servo Badoglio che avvenisse la rotta di Caporetto perché ufficialmente non risultasse che era l'Italia che aveva vinto la guerra. E invece è così. Invece di fatto dico che l'Italia che l'ha vinta più che l'oro. Aveva parlato dello sport, le battoste che abbiamo dato, tutte le cose. L'ha sempre prese, però sono sempre altecciosi. Ritroviamoci sempre che i francesi, avendo tanti debiti con noi, non la mollano mai. Questo è un elemento per cui io non appoggerò mai col massimo rispetto che io ho per l'Alepain, ma presupponendo che l'Alepain in ogni caso ha una componente nazionalistica francese di tipo sciovinistico che è tipicamente francese, è quello che la farà vincere, che io rispetto moltissimo e sono convinto che in Francia porti bene, però non accetterò mai l'accordo tra la Lega e l'Alepain perché è un accordo assolutamente, sostanzialmente anti-italiano. Sì, sì, sicuro. Loro ne approfitto l'ignoranza dei caproni della Lega perché guarda, anche oggi si parla il vero interdipendente. Qui c'è purtroppo, sono degli italiani così disperati che credono che separandosi migliorano le cose. Ma se voi non capite che più separano e peggio è... No, non solo, ma se si separi e ti unisci alla Francia, ritorniamo... Peggio ancora, peggio ancora. Appunto. Peggio, ancora più peggio. Ritorniamo al vicereame del 1805-6 fino al 12, che era un vicereame che è andato benissimo all'epoca, ma comunque era un vicereame, come dire, asservito agli interessi geopolitici della Francia. Esattamente. Che allora erano validissimi perché erano gestiti da Napoleone. Oggi no. E' oggi no. E' oltretutto. E' oltretutto. E' oltretutto. Quindi, se certe cose le possiamo accettare... Come era italiano, anche il cardinale Mazzarino. Non dimentichiamo. Esattamente. E' altro che lui. La Francia è piena di italiani. E' sempre stata piena di italiani. Anche gli attori. Allora, io... Gli attori, scusa. Diciamoci. Gli attori. Alain Delon è italiano di origine. I nonni siciliani. Belmondo, Giapol Belmondo è toscano. Non toscano, è di Parma. Mentre Yves Monta è toscano. Che aveva un altro nome, per dire. E ce sarebbero ancora. La Francia è piena di contributi italiani. No. Ricordiamo che Yves Monta ha militato nella Repubblica Sociale Italiana, oltretutto. Ah! Addirittura. E non lo sapete? No, no, no. Questo è inedito. Sono convinto che sarà inedito anche per chi ci ascolta. No, perché siccome ha fatto le affermazioni molto stupide di volontà su questo fatto... Beh, 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 in Italia abbiamo l'esempio classico del più stupido di stupidi. Angio del Boca, no? Della Monterosa. Per non parlare anche di Dario Fo, che era una folgore, no? Dario Fo? No, no. Che poi hanno fatto il passo di cambio della... Eh? E oggi... No, ma è ridicolo che Dario Fo oggi... dice le stesse cose che dicevano i suoi camerati 70 anni fa. Esattamente, esattamente. E questo è quello che... E' il coglione che non se ne accorge. E poi... Stai a vedere l'ultimo discorso che ha fatto in Paragenova. Esattamente. E lì, guarda, è un discorso puramente da Repubblica Sociale Italiana. Esattamente, esattamente. Io dico queste cose qua. Ti dirò di più. Ti dirò di più. Ehm... Dario Fo ha militato non nella folgore, ma nei paracadutisti della Guardia Nazionale Repubblicana. Ah, sì, sì, sì. Ho capito. Scusa, pensai che fosse folgore. Vabbè, no, vabbè. Vabbè, è diverso, eh. Vabbè, certo, è diverso sì. Beh, questo caso è diverso. No, ideologicamente è diverso. Caspita, molto, perché parliamo di Guardia Nazionale Repubblicana, di cui, scusa un attimo, il secondo solo, di cui... Sì. Di cui, di cui vorrei ricordare ai nostri lettori che su questo argomento c'è un bellissimo libro scritto dallo storico Pietro Cappellari, La Guardia della Rivoluzione, che parla proprio di quel reparto. Sì. E' bellissimo leggerlo perché si capisce l'uomo nuovo che vuole a Mussolini. E' da leggere questo libro. Ci sono molti fatti inediti e molte testimonianze, diari private, eccetera. L'editore Herald, l'editore Roma, Herald con l'H di Roma, è Pietro Cappellari, l'autore. E chi scrive Pietro Cappellari con due P e due L su YouTube troverà tante cose anche su internet. Quindi, vuol dire, l'ambito ai nostri lettori a prendere questo libro perché fa capire veramente che cos'era la GNR e la Milizia Volontaria di Sprezzo Nazionale. E' da leggere. Prego. Colgo l'occasione, prima di saltare ad altre cose che ci interessano in maniera particolare. Sì. Visto che entriamo sempre nell'argomento Mussolini, diciamolo in maniera molto chiara. Quando si parla di dualismo di due poteri presenti in Italia all'epoca del regime fascista, del ventennio, ci si accenna sempre al dualismo Mussolini-Re Emanuele di Savoia, Vittorio Emanuele III di Savoia. E' un fatto che ha provocato un sacco di guai questo Savoia. Ha provocato una varia di guai il 8 settembre. Non era quello il dualismo. Mi sto accorgendo sempre di più, e lo diremo al momento più opportuno e quando capiterà, in maniera esplicita, che il vero dualismo era tra il papato e la massoneria che era rappresentata all'epoca dal Savoia. Mussolini contava pochissimo. Se noi entriamo in questo ordine di idee, vediamo che Mussolini è stato un uomo che sapeva perfettamente come stavano le cose, se no non sarebbe andato, se non aveva la sensazione che il vero potere era in mano, il potere militare ce l'aveva comunque, l'avrebbe comunque avuto fino all'8 settembre, perché noi ci sono sputtanati definitivamente, ma comunque a quell'epoca ce l'aveva il re. E allora è chiaro che lui ha capito perfettamente che quando l'hanno fregato il 25 luglio, non aveva strade davanti, perché non aveva le truppe per poter contrastare la forza dell'esercito. Fermo restando che la milizia è sempre stata fedele, ma la milizia ha rappresentato una infima minoranza della totalità dell'esercito e della Marina. Ricordiamocelo bene, siccome Mussolini era un uomo politico sopraffino, sapeva perfettamente quali erano i reali rapporti di forza, l'altro potere era indubbiamente il Papa, ecco perché Mussolini ha fatto gli accordi col Papa, perché non poteva non farli. Eh no, è giocaforza, devo fare il giocaforza, anche se purtroppo c'è un fatto che proprio ieri sera, il 4 marzo, ho parlato con il dottor Pantano in merito allo spionaggio che il Vaticano… Spionaggio, non è stato spionaggio. Beh insomma, se non è giunto per bagnarsi. Eh no, è quello il punto. Di recente, io poi lo sottolineerò proprio… Prego, prego. … riprendendo il lavoro stesso, in uno di questi libri che qui ho portato in mano, uno studioso notava come, uno studioso, uno storico di vaglio, notava come i tedeschi non avrebbero potuto fare niente nella Roma del 1943-44, perché quella Roma lì era completamente in mano al Papa. Sì, sì. E il sistema papale era tale per cui lui non avrebbe potuto fare niente, a meno che non dichiarassero guerra al Vaticano. Non so, ma infatti Hitler voleva fare, addirittura voleva anche capire il Papa, poi non fu fatto per motivi… … anche per l'eco mondiale che avrebbe avuto… … strategia internazionale… Sì, esatto, esatto. … ma insomma le cose stanno così. No, ma in effetti stavo dicendo, il fatto che ti ho ricordato, ieri sera abbiamo parlato proprio di un viaggio che fece il Cardinale, allora Cardinale Pacelli nel 36-37 mi sembra, negli Stati Uniti, visitando ben 70 parrocchie, viaggio in aereo pagato da un grande finanziere, banchiere americano, dove poi ebbe un incontro con questo Cardinale Pacelli, che fu un incontro chiaramente che concerne problemi planetari, che ti lascio immaginare, e infatti mi domando se Mussolini si fosse accorto che cosa non avesse significato quel viaggio di Pacelli nei Stati Uniti, che Drogli sembra parecchio… non so se due o tre settimane… … ma poi che non se ne sia accorto, ma ti immagini… … che poi li lascio fare, purtroppo sappiamo poi che è successo. Vabbè, questo comunque rimando… Allora, no, siccome noi parleremo… … a vedere i video con Pantano… … invitando… no, giustissimo, perché sono importantissime quelle interviste a Pantano. Allora, in futuro noi parleremo sull'importanza di ragionare sugli avvenimenti. Sì, prego, prego. Allora, l'importante è cominciare a capire quali sono le realtà effettive in cui ci si trova ad operare. Quindi quando si parla di spionaggio attuato dal Vaticano si fa un errore. Perché il Vaticano non fa lo spionaggio, fa i suoi rapporti di potenza non solo di potenza sovrana, ma di potenza che si ritiene superiore alle altre. Infatti. Bravo. E fa prima di tutti i propri interessi. L'hai perfettamente detto, caro Giorgio, è così che si ritiene. Allora, giustamente Mussolini, che conosceva le cose come stavano, perché veniva da studi profondissimi della realtà rivoluzionaria e della rivoluzionarietà che si poteva applicare in questo paese, sapeva perfettamente che andando al potere con un compromesso… Stai ben attento a quello che ti dico? Certo, vai, vai, è magnifico. Per i nostri amici. Certo. Andando al potere con un compromesso con Re, cioè con la bassoneria, cioè con i generali e con gli ammiragli, l'unica mossa che lui poteva fare per scompaginare in un certo senso questo potere, ricordiamo che il Vaticano da sempre pretende al Regno d'Italia… Sì. E a quel punto, gli accordi lateranensi li dobbiamo vedere in quest'ottica, cioè di una persona che avendo un minimo di potere, perché anche all'epoca Mussolini aveva un minimo di potere… Verissimo. Allora, l'hanno fregato, adesso si capisce tutto, l'hanno fregato facendo fuori Matteotti e dando la colpa a lui. Sì, sì. Ma quelli che l'hanno fregato erano della gente che stava al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno non è che fosse tutto in mano a Mussolini, no? No, no, non è vero. Non è vero. Infatti questo è chiarissimo, Giorgio, sta dicendo le cose da quel che sono io verissime. Vai avanti, per favore, vai avanti. Poi che cosa fa Mussolini? Mussolini fa l'accordo col papato perché si deve mettere d'accordo con le masse popolari cattoliche. Ma questo accordo, nella sostanza, a parte il fatto che gli garantisce un minimo di diffusione e di consenso a livello internazionale tra le masse cattoliche, ma all'interno, che è quello che conta, che cosa conta? Giorgio, gli garantisce l'appoggio della Chiesa qualora si trovasse in contrasto con chi? Con la masoneria e con il re. Infatti. Ecco che quindi Mussolini colpisce, per quanto lo può fare, la masoneria in quell'epoca, perché la doveva colpire per forza, ma indirettamente, era una botta che dava al potere del re e di tutto l'entourage monarchico. Certo. Piemontese è ancora prima che monarchico. Sì, Piemontese perché… Qualcora succede? E con questo vorrei concludere, almeno per il momento, avendo aiutato questo flash sugli occhi dei nostri amici. No, ma è un flash che ci voleva. Mussolini, che cosa fa? Essendo un rivoluzionario, e questo lo posso comprovare perché ho tante prove, Mussolini che cosa fa? Fa la guerra all'Inghilterra. Ma perché fa la guerra? Perché è l'unico atto rivoluzionario che lui può fare. Sì. Sapendo perfettamente che non aveva il potere assoluto e non poteva averlo, perché il vero potere, come hanno dimostrato i fatti, ce l'aveva e ce l'ha tuttora in Italia il papa e il re, fa la mossa di scompaginare il quadro e dichiara guerra, potendolo fare, all'Inghilterra che era la strettissima amica della dinastia. fredda il re. Esattamente, ma tra di più... Con quell'atto ha fregato il re, capito? Esattamente. E ha scompaginato la linea politica del Vaticano. Ma guarda, nei suoi colloqui... Era una cosa che si deve fare. Scusa Giorgio, tu hai letto il colloquio che hai avuto con De Begnacchi, no? Certo. Ecco, lì, se tu leggi fra le righe, viene fuori questo fatto, vengono fuori questi fatti qua. Certo. Non mi sorprenderebbe, non mi sorprenderebbe. Altro che Trapunzi, altro che... Ma appunto, 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 te lo dici? L'ultimo, l'ultimo è Bruno Vespa, capito? Vabbè, se può stare! Bruno Vespa è faggista in India, questo è il fatto tragico. In effetti, Alessandro Mussolini lo chiamava zio per scherzo. Sì, sì, sì. Mi ricordo, mi ricordo. Vuoi dire una cosa? Il primo attrevoluzionario di Mussolini in questo fatto, che agì in questo senso, e che creò la spaccatura con l'Inghilterra, furono la faccenda di Corfu nel maggio del 23. Certamente. E quello, ricordiamolo, che è successo a Corfu, a Corfu furono uccise, insomma, cioè Corfu in Grecia, sul confine fra Grecia e Albania, fu ucciso una delegazione italiana che controllava i confini per le Nazioni Unite, allora che era Ginevra, che si chiamava Società delle Nazioni, fu ucciso questa delegazione italiana dai Greci, comandata da Generale Tellini. Mussolini, chiaramente, si infuriò da tutte le forie... E presa la panna al balzo per avere... E presa la panna al balzo, sì, sì. ...dell'isola e dell'Egeo. Esatto. E non solo, si fece risarcire con 50 milioni di lire dell'epoca. Allora, attenzione, attenzione, prego. Prego. Allora, importantissimo, perché ci prendemmo le isole dell'Egeo? Bella domanda che hai fatto, bella domanda. Cioè, lì tutta la cosa non aveva nessun significato se noi non avessimo preso quelle isole. Da sempre, da sempre, quelle isole erano utilizzate da chi, nei secoli precedenti, per il controllo del Mediterraneo? Da Venezia. E allora? Siamo tornati a casa nostra. Appunto! Cioè, questo fu... Perché era l'unica strada, l'unico posto dove noi potevamo ancora controllare il Mediterraneo. In effetti, io vorrei segnalare ai nostri amici, a proposito di questo fatto, che comunque è concatenante questo fatto, è concatenante. Cioè, questo articolo che ha apparso sull'uomo libero, adesso qui lo trovo. Sì, io ce l'ho qui a portare a mano. Esatto, l'uomo libero è l'ultimo numero. Sì. Nel numero 76. Importantissimo, importantissimo. Dillo, dillo, dillo. Il cui lo devo dire sì, perché qui c'è uno storico greco, non italiano. Greco, eh, greco, non italiano. Questo lo voglio riferire soprattutto, lo vorrei dire soprattutto al nostro amico che ci segue molto, Angelo del Boca, eh. Un grande amico nostro, chi più che non lo sapesse. E' un affettino di quanto non si crede. Allora, lo storico greco in questione si chiama Dimitris Michalopoulos, che ha trovato agli archivi greci che questi giorni qui di solo sono venuti fuori, un documento del 1936 in cui gli inglesi e i greci si stavano messi d'accordo per romperci le balle. Io qua faccio vedere l'uomo libero. Il 1936. E qui c'è l'articolo in questione. Esattamente, esattamente. Il titolo dell'articolo. Fermano lì, il 1936, il patto di alleanza bellica tra Gran Bretagna e Grecia. Ricordiamoci anche la strana fine che ha fatto un strano personaggio. Ma era in funzione anti-italiana. Giorgio, era in funzione anti-italiana questo patto. Esattamente, ovvio. Ma l'avrei fatto così? No, attenzione. Un momento, un momento. Se fossi stato inglese l'avrei fatto anch'io. Ma capisco, certamente. No, ti capisco, ma non solo. Attenzione al momento. Qui, allora, molti poi si lagnano che Mussolini non voleva accettare le proposte inglesi. le lusinghe, tra virgolette. Ebbene, Mussolini queste cose qui le sapeva, perché non le ascevano. No, aveva conteggiato anche della strana morte di un qualcuno che aveva creduto alle lusinghe inglesi. Esatto. Come c'è scritto lì. Esattamente, bravo, perfetto. Ma attenzione. Come cercato di alzare la testa, è morto, poverino. Esatto. Insomma, capita così. Allora, nel 38, quando gli inglesi fecero con Mussolini il cosetto Easter Agreement, cioè il trattato di Pasqua, no? Che poi gli inglesi si attesero. Cioè, in sostanza, Mussolini sapeva di questa cosa qui. che poi fece il trattato con gli inglesi, cioè quello di Pasqua nel 38, per dimostrasse buona volontà. Però dopo, sappiamo benissimo che quando ci fu l'inizio della guerra tra tedeschi e polacchi, gli inglesi cominciarono a fare gli stronzi ai nostri confronti, come dimostra il rapporto di Luca Pietro Marchi, sequestrandoci in maniera arbitraria e piratesca, senza nessun motivo, il nostro naviglio commerciale, creandoci molti danni a tal proposito. Sì, però ricordiamocelo bene. Gli inglesi, da questo punto di vista, si muovono sempre con una geopolitica molto rigorosa. Non è che l'hanno fatto per farci un dispetto, eh? No, interessi loro. Chiariamolo bene. Però interessi loro danno già interessi nostri, scusami, eh. Il loro interesse era quello di bloccare l'Italia sul Mediterraneo, per i loro interessi, per qualsiasi altra cosa. Esattamente. Però è vero che il vero salto mortale, il fatto di gioia, il salto di gioia che hanno fatto gli inglesi quando ci fu la resa della flotta italiana. Ah, beh, sappiamo. Che a quel punto loro ebbero completamente il controllo del Mediterraneo. Sì, 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 sì. Ecco, quello è il punto. Sappiamo benissimo, perfetto. Allora, siccome dovremmo parlare di altre cose in relazione al processo cognoscitivo, perché qui molti ci chiedono per quale ragione noi siamo genericamente critici, usiamo la critica. Allora, proprio come elemento dialettico. Sì. Allora noi a questi gli dobbiamo rispondere. Guardate, cari ragazzi, che il nostro sforzo principale è appunto quello di spingere le persone a ragionare. Vedi, io ti ho parlato di una qualcosa alla quale sono giunto da poco, che ho capito perfettamente qual'era la situazione italiana durante il regime fascista. Il regime fascista in realtà non è esistito. Mussolini era considerato dai due reali contendenti, e lo ripeto, il Vaticano, cioè la Chiesa e le sue istanze temporali, temporalistiche, che hanno sempre seguito il comportamento della Chiesa. Ricordo, in tal senso, e ho tutta la documentazione, che dopo la caduta del fascismo, uno stuolo di intellettuali a metà fascisti, a metà cattolici, a metà cattofascisti, guidati da un notissimo intellettuale dell'epoca, si presentarono a Pio XII, offrendogli attenzione, l'operazione era grossa. L'intellettuale a capo di questa delegazione si chiamava Edgardo Sulis, lo ripeto per l'ennesima volta. Edgardo Sulis aveva iniziato a scrivere un'opera sulla storia del XX secolo in Italia, estremamente da tagliata, di cui io ho i primi dieci fascicoli, quando a un certo punto, per ragioni sicuramente di carattere politico, questa bellissima opera, di cui io ho comunque rilegati i primi dieci fascicoli, e lo diremo al momento opportuno, li leggeremo qualora fosse necessario, fu bloccato e non uscì più, la rivista non uscì più, proprio un vetto di stampa. Io ho parlato con il tipografo, il quale mi disse, mi hanno vietato di stampare gli altri fascicoli. Edgardo Sulis presentò a Pio XII la corona del Regno d'Italia. E' un'operazione ardita, estremamente interessante, Pio XII ne ebbe il coraggio di assumerla. Ma l'operazione era grossa, perché ci saremmo tolti dai coglioni, il Savoia una volta per tutti. Ah beh, quello sì, però, 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 sarebbe diventata, attento, sarebbe diventata un'Italia democristiana, quello che lo è stato, comunque, perché nel dopoguerra c'è stata l'Italia democristiana. Esatto, esatto. Comunque sì, è potente. E magari, no, dico, magari non avremmo perso le terre di il Redente dell'Almace dell'Istria. È molto probabile, è molto probabile. Ti voglio anche dire che Mussolini aveva previsto, non ricordo più in quale libro mussoliniano c'era scritta questa previsione, in cui Mussolini disse proprio che l'Italia nel dopoguerra sarà un'Italia controllata dalla Chiesa attraverso un sistema nazionalizzato, burocratizzato e gestito in proprio dalla democrazia cristiana o dalla forza politica che rappresentava la Chiesa. Mi sembra che lo disse a Giancchiettano Gabella questo fatto, mi pare. No, perché non l'ho visto nel... No, io l'ho letto da qualche parte. L'ho pubblicato sotto forma di... No, no, questa è una riflessione privata di Mussolini. Oppure lo disse Emanue Fossani, mi sembra. È più probabile che l'abbia detto Emanue Fossani. Sì, sì, perché c'è la proposta, se tu rintraccia quel... è uno puscolo, bastanzi... Però da qualche parte. Ecco, prendilo perché quello lì, guarda, andrebbe ristampato. Sono due confessioni di Mussolini fatte nel marzo. Sì, ma noi come federazione lo ristampammo a suo tempo. Bisogna vedere dove caccia l'ho cacciato. Ti prego di fammela vedere perché... Eh, direi quante cose vuoi. Beh, lo so, dai. No, no, va bene. Prego, prego. Non ce l'ho più. È verissima. Emanue Fossani. Non lo so, lo so, lo so. Allora, lui disse esattamente il futuro dell'Italia, e lui questa cosa non la vedeva nemmeno male. Dice, un'Italia in un certo senso socializzata, quella che è stata, in realtà, in realtà, dove è stata fino al 92, quando hanno cominciato i liberali, filoamericani, occidentalisti, a privatizzare la Banca d'Italia. Esatto. Ma prima la struttura era quella. Lo dimostra tutt'oggi che la stragrande maggioranza degli iscritti alla CISL, cioè il sindacato cattolico, sono tutti i dipendenti statali. Sì. E la CISL, nei rapporti di forza, oggi, come ieri, rappresenta i dipendenti statali. Queste sono interconnessioni che bisogna conoscere. È vero. Detto questo, vorrei fare due altri riferimenti, prima di chiudere. Prego. Se non hai altro da dire. No, no, prego, prego, Giorgio. E riguarda l'informazione in Italia. Questo è un libretto aureo. Matteo Simonetti. Un attimo, un attimino, un attimo Giorgio, ancora. Democrazia, Solfanelli, Matteo Simonetti, democrazia, Solfanelli, ah sì sì, ho capito. Di monocrazia. B, aspetta, ah, di monocrazia, sì sì, di monocrazia, sì. Eh, appunto, sono considerazioni molto interessanti. Ne leggo una, perché sempre nell'ambito dello stimolo che noi dobbiamo esercitare nei confronti dei nostri amici al razionalismo, ma è razionalismo vero, non al razionalismo razionalista, che è altra roba. C'è uno schema mentale che noi rifiutiamo, noi vogliamo ragionare, non vogliamo incepparci, incepparci nel senso di avere i ceppi, all'interno di un reticolo che è quello del razionalismo, che è un'altra cosa. Allora, leggi cosa dice quest'autore, Matteo Simonetti. La sensazione più forte di fronte alla visione di un telegiornale è quella di un vuoto sapientemente creato. Il telegiornale è ipoinformazione, cioè sottrazione di ogni informazione pregnante e sua sostituzione con una non notizia. Pensate all'importanza che in termini di tempo e di evidenza viene data quotidianamente alla meteorologia. Fatti tanto banali come la successione di giorni di pioggia e bel tempo, l'alternanza di temperature e pressioni basse e alte e via dicendo riempiono lo spazio che potrebbe essere riservato a riflessioni importanti su vicende di politica estera alla spiegazione di nuove leggi. Bello. Questa è una bella riflessione. Certo, altro che? Tale vuoto però va mascherato per evitare la sempre possibile catastrofe del re nudo. Scoperto da un bambino, ecco allora che compare una vera e propria risemantizzazione dell'evento meteorologico, costruita con sapienti quanto costruiti agganci a fenomeni più pratici come il traffico, i danni alle culture e al turismo. Ecco i collegamenti dalle città con interviste tipo, ha visto come è stato caldo oggi? Sì, molto più di ieri. Speriamo che domani rinfreschi. E cazzo, questa è la logica del sistema. Dice, hai cagato, sì, è stato un po' stitica, però speriamo che domani sia leggermente più molla. Allora, collegamenti che hanno la funzione di testimoniare la presunta eccezionalità dell'evento, come se si trattasse di testimonianze oculari di un omicidio di un capo di Stato. Si tratta di falsa informazione, non nel senso di informazione bugiarda, ma in quello di non informazione. Questo inganno nei confronti di tutti noi poggia sul fatto che per decenni il intergiornale fu quello delle reti RAI, cioè in un certo senso espressione dello Stato. Era quindi normale per il telespettatore ritenere che se ci fosse stato qualcosa di importante da sapere, il servizio pubblico ne avrebbe parlato. Ah, ho capito. Ecco dove avviene la presupposizione, no? E' lo stesso discorso, per scontato che il prete sull'altare mi dice delle cose sicuramente veritiere e in realtà mi racconta la marea di fesserie. E' che video, eh? A proposito di prete, ti voglio dire a proposito dei nostri ultimi servizi su Don Tullio Calciagno e il Vangelo che tu hai commentato. Sì, ci abbiamo ancora tante cose da dire. Eh beh sì, beh, dopo le diremo più avanti chiaramente. Ah, l'ultimo papa di Enrico... Enrico Petrucitti, che è? Petrucitti, questo è Germana, beh, Leo Leon... Enrica Perrucchetti, una importantissima studiosa, Enrica Perrucchetti. Perrucchetti, perfetto. E ti voglio dire soltanto che c'è qualcuno che mi ha chiesto di suggerirti se tu puoi interessare ad una chiesa a commentare i Vangeli. Sarebbe detto che preferrebbero te, laico... No, dico, magari ti puoi anche attravestire da vescovo un giorno, vai in una chiesa romana oppure nel Lazio o anche nell'Abruzzo, dove sono più facilmente, capito? Sì, però io vado, dopo che però alcune persone prima di me vanno lì e vedono sia i preti, suolo che sia, e gli portano via tutti gli accendini. Ah, beh, c'è... Perché vorrei morire bruciato. No, no, no! No, ma tu vai con paramenti vescovili, non possono bruciarti, scusa, eh? Ecco, appunto. No, tu vai lì vestito... cioè, no, dico, ti presenti con un certo splendore, con tanto di mitra pastorale, e poi se qualcuno gli butti il bastone, il pastorale su in testa, no? Cioè, nel senso, lo richiami a loro. No, pastorale. No, perché tu vai a commentare un Vangelo, ma mica lì a fare, hai capito? Eh, appunto. Questo voglio dire... Ah, adesso ti racconto, l'ho già detto più di una volta, ma... Ma, mamma, solti qua! Dimmi, aspetta un attimo, Giorgio, un seguito. Questa, quest'aneddoto che mi è capitato, è molto interessante a testimonianza della intelligenza del popolo londinese. Pronto? Dimmi. Sì. Allora, ero relativamente giovane e mi trovavo a Londra. Andai... Sì, parla pure un attimo, parla Giorgio, parla. Sì, sì, io racconto questo fatto. Andai a Hyde Park, dove sapevo che era consuetudine di chiunque che volesse dire qualcosa, si portava lì il suo sgabello, saliva sullo sgabello e parlava, diceva quello che voleva dire. Era una bella, simpaticissima consuetudine. Mi trovai un giorno dove c'era uno che mi pare che fosse un esponente dell'esercito della salvezza e questo sale sul suo palchetto e incomincia a parlare e dice, noi siamo convinti che Gesù Cristo sia disceso in terra per salvarci, ci ha redento dai peccati e tutte le storie. Diceva queste cose. Allora, uno dal pubblico dice, Gesù Cristo? Ah, sì, Gesù Cristo. Mi pare che sia un nome che ho già conosciuto, l'ho sentito dire da qualche parte. E più questo continuava a dire, no? A dire che noi siamo convinti che Gesù Cristo ci abbia salvato, che sia venuto per redimerci dai peccati, a emendarci dalle pecche, a pulirci l'anima e quant'altro, e più quell'altro insisteva a dire, eh, beh, interessante, ne ho sentito parlare di questo Gesù Cristo. È stato veramente un dialogo degno di Samuel Beckett. Queste sono cose molto belle e su queste cose voglio continuare perché l'invito, l'invito a ragionare, a pensare con la propria testa, è un invito che incontra spesso delle grosse difficoltà, ma è un invito molto importante, a dimostrazione di questo, e siccome tutti sono abituati a leggere dei versetti di un certo tipo, io ne leggo degli altri, perché si capisce per quale ragione uno debba sempre leggere gli stessi versetti che dicono, sono stati detti magari 3-4 mila anni fa, da personaggi un po' strani, un po' strambi, mezzo matti, che poi peccato che all'epoca non c'erano i Maricomio, se no, Jeremia, Isaia, non facevano tempo a esternare i loro pensieri che finivano subito i matricomio. Giorgio, io stamattina ho parlato con un paraco, l'ultimo, quello della Toscana, gli ho detto sì, gli ho dato il servizio, l'ho visto, e lui ha molto apprezzato, questa cosa vera, non sto scherzando, il fatto di come tu hai commentato il Vangelo di domenica 2 marzo, guarda che ha apprezzato molto, ma anzi, ma ha detto che se andiamo verso Firenze, di passare da lui, però la cosa che guarda, io qui devo sottolineare, io non capisco una cosa, allora abbiamo 5 parroci dell'arco alpino, uno in Toscana e tutti e 6 mi hanno detto che non devo fare il loro nome, allora adesso io capisco, ma allora che significa questa cosa qua, Giorgio, tu come le interpreti secondo te? Non vogliono perdere il lavoro, dai, non vogliono perdere il lavoro, ecco, 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 è importante, insomma, altro che libertà, altro che libertà. Però, delle cose molto belle, allora, cara dolce buona Fatina, esordì Lomino, sono povero in canna, non posseggo più nulla, il mio campicello mi è stato tolto, non so più come sfamare i miei figli, piangono e mi chiedono cibo, quando vedo le loro lacrimucce mi viene un nodo alla gola che mi rende disperato. Allora la Fatina sorrise con l'infinita dolcezza e con una vocina incantevole, flebile, flebile, sussurrò della sua infinita dolcezza. E chi se ne frega? a ma puoi questo qui è da incorniciare, questa è da incorniciare, ovviamente, a proposito, noi parliamo sempre di savi, non dei savi anziani, dei savi, attenzione. Allora, scusi avvocato, a quanto monta la sua parcella per una consultazione? 50 dollari ogni 3 domande non le sembra una tariffa molto cara? sì, ora vi faccio pure l'ultima domanda allora questa è molto buona è di Marcello Marchesi per certe persone Icaro credeva di essere un uccello invece era un pirla ma accidenti questa sì che bella allora e questa invece è di Gruccio Marx quello spettacolo non mi piacque fino a quando non lo vidi in una diversa versione il sipario era alzato ho capito va bene per le commedie che sta recitando qui il nostro Pirlone Don Pirlone Matteo Pirlone ho capito perché questa è bella le leggo altre due le altre leggeremo in seguito eh beh sì certo questo è di Johnny Hart credevo alla reincarnazione fino a cinque minuti fa poi cosa è successo? che sono morto? ahahahah a uno di quelli gli ho rotto la mano la mano? gli ho rotto la mano mi si è voluta tutta la faccia ma ce l'ho fatta l'ottica dai punti di vista è appunto lui ha rotto la mano a lui e si è rovinato la faccia e l'ultima è questa che è sempre di Gruccio Marx è molto interessante durante la grande depressione di T2 in Central Park i piccioni portavano le bricele di pane ai passanti si oh l'hai capito? ah si portavano i piccioni le bricele di pane ai passanti i piccioni portavano le bricele di pane ai passanti poverini puoi immaginare puoi immaginare la grande depressione si in America adesso nel regime appunto del 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 burlone no io questa situazione qua la chiamerei quella che viviamo noi oggi è la giungla d'asfalto nel paese dei balocchi si si è la giungla d'asfalto nel paese dei balocchi è già oh adesso per fare una piccola traslazione e aprire un altro discorso quello dovremo sviluppare a lungo perché è sempre un discorso di ragionamento di riuscire a arrivare con ragionamento allora quando noi diciamo questa frase è il verbo si è fatto carne già allora è una frase di una chiarezza spropositata perché che significa il pensiero si è fatto persona esatto allora qual è il pensiero il pensiero è quello degli inventori e dei costruttori del cristianesimo si e dell'immagine di Cristo si e Cristo è la persona che è stata pensata immaginata e trascritta dai creatori del cristianesimo i quali dovevano per esprimere certe idee creare una persona un personaggio no il quale fosse credibile nella misura in cui esprimeva quelle idee se quelle idee le avessero espresse esclusivamente sotto forma di un testo filosofico cosa che non si faceva all'epoca intreduto perché Platone per dire quello che voleva dire ha inventato la figura di Socrate perché Socrate sicuramente non è esistito è Platone che è esistito è Platone che per far capire quello che pensava l'ha attribuito a questo personaggio Socrate ho capito cioè uno andava in giro andava in giro dicendo delle parabole a quell'epoca era in uso dicevo era in uso una tecnica che diciamo che comportava queste invenzioni personaggi per poi diffondere un messaggio è naturale anche per non dare come dire siccome che poi si parla di una fede di una dottrina di una religione e siccome che qui tocchiamo una materia molto delicata è ovvio che poi per secoli e secoli millenni tu facendo credere certe cose con tutti gli apparati di comunicazione eccetera tu infondi le persone delle certezze ma poi dopo quando vai lì a fare un'analisi storica delle cose se non la si fa in modo direi appropriato rischi di creare uno scumbosolamento pazzesco non è facile entrare in questi argomenti per far capire l'origine del cristianesimo come esso è nato si è sviluppato e qual era lo scopo principale del cristianesimo capisci Giorgio? oltretutto ma non solo ma anche sembrerebbe strano riuscire a far capire che le parole hanno un loro significato intrinseco che non può essere modificato quando dice il verbo è fatto carne è il verbo è il pensiero è diventato carne ma il pensiero dov'è? che esiste un pensiero in astratto il pensiero è nella mente delle persone esattamente esattamente quindi io penso che che hanno creato una figura umana io penso che questa tua osservazione è così semplice ma infatti questa tua osservazione direi che è pertinente no? a far sentire che qualcuno si incuriosisca e vada a fondo alla faccenda esatto e capisca le cose insomma io ti ripeto vorrei ancora ripetere io l'ho già ripunto qualche volta su questo canale di Accademia e Libertà una significativa ripeto una significativa frase di Marco Pompeo Strabone certo che aveva capito tutto di queste tecniche certo infatti che cosa disse Marco Pompeo Strabone proprio parlando di religione in questo caso anzi e questa frase era riferita proprio al cristianesimo in sé in quanto tale che in quel momento si sta sviluppando appunto in Palestina con i suoi pensatori gli esseni eccetera disse il mistero e il sovranaturale conferiscono un peso tale che non è possibile attribuire a cose di cui si ha cognizione certa e si sa come sono nate gli uomini sono più facilmente governabili dall'immaginazione che dalla scienza questa frase qui di Strabone guarda è tutto chi la vuole capire capisce se no peggio per l'ora insomma è un pensiero talmente chiaro cioè lui ha fatto capire che cosa significa manipolare gli spiriti delle persone e portarli in direzione che un vuole un certo potere ecco per esempio tu prova a pensare abbiamo parlato per esempio delle indulgenze cioè il fatto che tu paghi e vai dal purgatorio a paradiso se no va all'inferno o queste cose qui cioè la morale dell'uomo è stata sempre condizionata più da un fattore religioso che non dalla morale umana in sé sì certo truffatore proprio così bravissimo ti fa risparmiare 10.000 anni di purgatorio ma se nell'aldilà non c'è il tempo come cazzo mette vai a vendere altro che euro questo ancora più falsario di quello che stampa gli euro eh sì ma questo purtroppo è così cioè dicevo tutte cose quello che è presente questi fattori qua non bisogna dimenticarseli quando si affrontano certe tematiche perché purtroppo l'uomo non è educato ancora gli manca l'educazione per essere un uomo libero anche la donna libera voglio dire adesso qui c'è un libro molto interessante intitolato Bibliofollia questo qui è un bibliomane che ha scritto delle cose interessanti relative alla passione che molti hanno per i libri e allora nel caso particolare la questione riguarda anche la religione del libro no quel cui siamo sempre in quell'ottica però ci sono delle considerazioni che voglio leggere a chiusura di questo nostro incontro esatto non chiudere infatti sarà sempre San Giovanni a teorizzare l'identità di corpo e verbo il verbo si fece carne ed abitò tra noi e abitato tra noi infatti la figura di Gesù Cristo nata dalla ideazione di quelli che l'hanno inventata e poi ha abitato tra gli umani e a far sì che mangiare l'ostia consacrata comportasse l'assimilazione del verbo già allora pensa a questo ragionamento io ti dico che il verbo si è fatto carne poi ti dico che il pane è quella carne poi ti faccio mangiare quel pane tu credi di mangiare quella carne e mangiando quella carne in realtà acquisissi il pensiero sì questa è quella che poi pensavano di fare anche le antiche religioni teofasiche teofasiche cioè quelle religioni che si pensavano sulla mangiatoia di Dio ma il concetto è lo stesso sì sì certamente c'è una interlocuzione di carattere dialettico ma in realtà il concetto è lo stesso è però una costante nella tradizione culturale il riferimento al sapere come a un cibo di cui nutrirsi parliamo di libri appassionanti che divoriamo e di libri noiosi indigesti Eschilo definiva le proprie tragedie briciole degli opulenti banchetti di Omero Pindaro e Quintiliano vedevano nella scrittura un nutrimento Dante nel convivio ecco qui un altro punto essenziale allora noi abbiamo ricordiamocelo bene esoterismo di Dante noi abbiamo molte opere di Platone relative al comportamento di Socrate che avvengono durante un pasto con un convivio ma questo convivio trova la sua proiezione nell'ultima cena di Gesù e in più abbiamo anche Dante che ripete questa tradizione nel suo fondamentale convivio allora il convivio di Dante non sarebbe importante se non fosse stato scritto da Dante perché Dante queste cose le sapeva perfettamente come ha dimostrato René Guénon nel suo fondamentale libro che cominterevo un altro giorno appunto dedicato all'esoterismo di Dante molto bene questo è interessantissimo bene Giorgio allora Dante nel convivio aveva affermato che il sapere è lo pane degli angeli Rabelè fece dire alla sacerdotessa Buckbook non vi dico leggete questo capitolo vedete questa glossa vi dico gustate questo capitolo e ingurgitate questa bella glossa se per Sant'Agostino Dio è interior cibus per Sant'Agostino Dio è il cibo interiore uno dei padri della chiesa Barnabò Visconti invece nel 1370 costringe i due legati pontifici inviati da Urbano primo a mangiarsi la bolla di scomunica buon appetito buon appetito Francesco Bacone affermava alcuni libri devono essere assaggiati altri inghiottiti e pochi masticati e digeriti Elisabetta d'Inghilterra si nutre delle sue letture devozionali ho passeggiato più volte negli ameni campi delle sacre scritture dove ho colto le verdi erbette delle loro sentenze me ne sono cibata leggendole le ho masticate meditandole e le ho depositati infine nella dispensa della mia memoria qualora questi versetti fossero stati scritti dai soliti Geremia e Isaia questa gente qua peggio per lei capito? capito capito metafora leggi leggi messere e affine il tuo appetito impara a vivere di istruzione fai banchettare la tua mente e mortifica la tua carne leggi e nutriti attraverso gli occhi chiudi la bocca e mastica il boccone della comprensione e con questo ho chiuso anche perché mi interessava sottolineare questi aspetti che non sono estranei al pensiero religioso per cui quando noi formuliamo delle idee sul pensiero religioso e sulla sua manifestazione o ci rendiamo conto che ci sono tutta una serie di strumenti in carattere dialettico e logico tra cui anche quello della interiorizzazione attraverso il cibo o non capiamo quello che la religione ci vuol dire infatti direi di sì bene chiudo chiudo con l'ultima frase prego questa pillola di saggezza prego prego dottore ogni notte mi sogno una porta con una grande targa ma grande grandissima e spingo e spingo e sudo e sudo e spingo e spingo ma non riesco a aprirla ma che ma che c'è scritto nella targa c'è scritto tirare questo è l'ultimo è l'ultimo perché c'è una mia chiosa dopo allora entra nell'esercito gira il mondo incontra gente interessante e uccidila pure con la mia chiosa e questa era una battuta del 1979 la mia chiosa è questa entri in marina visiterai l'India appunto è abbastanza attuale questa battuta allora l'ultima l'ultima è grande Oscar Wilde la differenza tra la letteratura e il giornalismo il giornalismo è illegibile e la letteratura non è letta la sapeva a lungo mi ha capito tutto per dire questa frase grandissima bene ragazzo l'ultimo l'ultimo questo è di Quino dobbiamo chiudere adesso Giorgio questo è in chiusura i giornali inventano la metà di quello che dicono se poi ci aggiungi che non scrivono la metà di quel che succede ne consegue che i giornali non esistono ah ebbè infatti pensiero molto molto realistico è molto profondo direi va bene carissimo con questo chiudiamo e per questa sera la chiudiamo così si chiudiamo ti ringrazio Giorgio per i tuoi grandi risorse di notizie di sapere che hai sperando che qui su questo canale tu lo lasci tutto qui ai posteri che possono poi insomma fare un certo del loro studio i morti dell'ingegneria ah l'ingegnere i morti dell'ingegnere e chi è l'ingegnere? De Benedetti chi è? ah ecco e i morti chi sarebbero? sono 450 morti provocati dall'azienda dell'ingegnere 450 morti nessuno dice un cazzo eh beh secondo me lui ha gli hanno fatto quella roba lì sai come disse altissimo lui ha quella roba che tu non hai è riferita a Craxi ti ricordi che si è altissimo? lo disse attento lo riferì altissimo altissimo sì lo riferì a Craxi mi sembra no allora ti dico io durante l'inchiesta l'inchiesta fondamentale del caso Cirio eh sì sì esattamente dove Berlusconi riuscì a sottrarre a questo testo di cazzo a questo delinquente di Carlo De Benedetti sì l'acquisto a cifre irrisorie della degli delle dell'industria più importante dell'agricoltura italiana però devi ricordare che fu Craxi a dire a Berlusconi di sottrarre no allora durante l'inchiesta parlamentare sì della commissione parlamentare sì in relazione al fatto che Mortadella aveva offerto a una cifra irrisoria che poi non fu presa no perché subentrò una cordata capitanata da Berlusconi esatto che bloccò quell'infame mercimonio esatto infatti ecco perché durante aspetta durante eh la inchiesta della commissione di inchiesta al parlamento fu interrogato Mortadella va bene sì e Mortadella esponente di spicco del catto comunismo infeudato alla massoneria bolognese sì e ex presidente dell'Iri sì a domanda da parte di altissimo che faceva parte di quella commissione sì dice ma per quale ragione volevi vendere a De Benedetti questi grandi prodotti dell'ingegno e del popolo italiano a quattro soldi esatto e Mortadella rispose perché De Benedetti ha un taglio sull'uccello che tu non hai esattamente sì bravo però non vuol dire una cosa non c'è niente Craxi no Craxi chiamò Berlusconi di far la cordata per non far centri la città ah certo questo l'idea perché ci fu l'attacco nei confronti di Craxi perché Berlusconi è sempre stato l'erede del craxismo esattamente e perché Berlusconi è stato colpito quando doveva essere colpito che intranciava i piani di loro signori bravissimo e in effetti ancora gli intorcerebbe per certi versi perché c'è Putin alle spalle quindi Berlusconi continua ancora benissimo benissimo allora io ti ringrazio Carlo Giorgio no aspetta l'ultima cosa mi hai fatto venire in mente no ti chiedevo più eh sì proprio oggi nel ambito del salto della quaglia alla RAI 1 hanno notizia hanno fatto sapere di quanto l'Italia sia tributaria per il tramite dell'Ucraina del petrolio russo ah 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 allora prima a me sembra che questa sia la prima volta che venga detto ufficialmente meno male meno male ma questa è una notizia hai fatto bene a stopparmi quando notizie del genere meritano anche di essere detto fuori tempo esattamente ti ringrazio Giorgio e alla prossima a presto vorrei ricordare sempre lo dico per l'ultima volta poi sperando di fare chiarezza estrema cioè io vengo una volta vengo accusato ma tu sei fascista se qui sei là no io non sono fascista io sono anti antifascista e sono anche un po' svizzero se permetti sì va bene vorrei prendere questa cosa quella famosa canzone la svizzera la svizzera la svizzera la svizzera la lontana intanto vi saluto Giorgio e ciao a tutti e a presto ciao a presto